Ciao ragazzi, bentornati nel canale di Chiari Lady Boss Torno ai vlog in italiano In questi giorni un po' delicati in cui la situazione in Italia non è assolutamente piacevole ho deciso di cercare di fermare gli italiani che sono riusciti ad entrare a New York, negli Stati Uniti d'America e capire da loro quale siano i blocchi o i problemi ai controlli una volta arrivati all'aeroporto, oggi 9 marzo 2020 sto aspettando la mia amica Irene e la sua mamma che è con lei che mi ha dato l'idea per fare questo video inizialmente, oggi saremmo dovute andare al JFK per intervistare le persone che arrivavano all'aeroporto abbiamo pensato che forse non era il caso di passare del tempo chiuse dentro un aeroporto e quindi questa intervista la faremo all'aperto, in questo momento mi trovo davanti a Macy's, Herald Square diversi followers e persone che sono arrivate a New York mi hanno confermato che non c'è alcun tipo di controllo al JFK nessuno è stato bloccato e nessuno è stato interrogato, purché italiano ora, so che fino al 3 aprile c'è questo coprifuoco, chiamiamolo così, quarantena, chiamiamolo come volete credo che se c'è questo stato di allerta e questa direttiva da parte del governo sarebbe bene cercare di evitare di creare danni ulteriori dato che comunque so che i posti in ospedale stanno per finire i medici e gli infermieri stanno facendo il possibile per cercare di salvare più persone possibili quindi solitamente quando io mi metto in un posto, che so che ho frequentato ai turisti e in un quarto d'ora e venti minuti non si sa quanti italiani passano in questo momento sono passate solamente due italiani ma non ho fatto in tempo a fermarle perché sono in bici e non l'avevo legata quindi ho pensato di spostarmi anche perché mi incontrerò con Laura Irene proprio a Brian Park è arrivata a Brian Park, non c'è traccia di italiani italiani dove siete? sto ancora aspettando Laura Irene è una giornata non meravigliosa di più venti gradi qualcosa così tutta la gente fuori che legge un libro, che mangia, che si rilassa, che non fa niente che guarda il telefono sono arrivate Laura, Irene, facciamo il trio colorato però siamo a un metro di distanza in Italia è un metro oh my god è un metro in Italia, Irene, lo capisci? io sentino un metro e mezzo va bene, allora facciamo un metro e mezzo voi cosa ne pensate di questa situazione surreale? è bene stata a casa quindi usiamo l'hashtag io resto a casa io resto a casa io resto a casa buon libro, della buona musica ci si vede fra un mese non di più non so bene cos'è allora Matteo e Vanessa sono i primi che si sono resi disponibili a rispondere alle nostre domande sul coronavirus volevamo capire allora siete arrivati quando? il primo domenica domenica JFK? sì volevamo sapere che controlli ci sono stati all'aeroporto e che domande vi hanno fatto sapendo che venivate dall'Italia? la temperatura quando fai controllo il passaporto quindi all'andare prima di partire? no no, all'arrivo ok all'arrivo si è avuto e attraverso una foto ti rilevano il cosai la temperatura più di tanto perché comunque noi eravamo già stati in Stati Uniti lo scorso anno e tra l'altro all'arrivo qui abbiamo saltato tutta la fila dell'Est e via dicendo la classica domanda siete stati nell'ultima settimana in Cina? sì, no, no ok quindi siete partiti tranquilli? no tranquilli no no non pensavo neanche di partire ok decisione dell'ultimo è venuto? no, siamo andati poi ci dicevano fumatevi qua sono amiguiti non lo sai però perché adesso a noi ci scrivono tante persone e ci chiedono se è vero che gli italiani vengono messi in quarantena se si vedi qua per stare una settimana in vacanza infatti noi lo sappiamo però volevamo dar appunto queste informazioni perché in realtà sappiamo che li fanno entrare indipendentemente dalla nazionalità non sta com'è dopo senti dire tante cose tanti gli dicono addirittura che una ragazza qui con Uber è stata cacciata ah sì, è stata fatta scendere da Uber da Uber noi siamo stati anche a Mettison Spergante di dove siete? Italia? ah bene bene sì no, da più sulle palle va bene prima testimonianza grazie ragazzi positiva mentre aspettiamo mentre aspettiamo questi benedetti italiani italiani dove siete? non ci sono faccio una chiacchieratina con Irene ah, vi posso vedere una cosa? ho perso un elastico quindi questa sarà la mia nuova moda è la treccia a cuore treccia a cuore non un elastico allora, Irene cosa vogliamo dire di questa situazione? niente, credo che a questo punto sia solo da restare a casa è aspettare in Cina l'hanno fatto e sembra dopo un mese qua un mese un mese e mezzo sono riusciti a debellare quasi tutto sperando che la scienza faccia passi avanti magari un vaccino ce lo trovano e quindi non so restiamo a casa siamo un po' uniti cerchiamo di mettercela via per un qualche settimana e poi e poi venite a trovarci quest'estate ottima idea come quest'estate? no, primavera primavera tarda primavera maggio per i ciliegi aprile anche come potete vedere siamo sempre d'accordo su tutto la bionda e la mora sempre d'accordo ma non è strano che girando per New York non si sentono parlare di italiani io questa mattina facevo un live e di solito trovo sempre italiani ma neanche uno allora ci abbiamo Giovanni Viviana è fuoricampo non la potete vedere è vietato l'accesso buonasera a tutti Giovanni Calabrese che proviva Berlino? Rostock a 200 km al nord di Berlino è un paesino sul mar Baltico 250.000 abitanti 250.000 non è una grande metropoli allora loro ovviamente non sono arrivati dall'Italia però in quanto italiani volevamo capire se hanno subito delle domande all'aeroporto controlli e quant'altro no personalmente non ho alcun tipo di controllo alcun tipo di problema nessuno mi dicevi che arrivavi dalla Germania noi abbiamo fatto il volo il nostro volo è stato Berlino Chicago però è stato domenica scorsa o sabato scorsa no sabato scorsa oggi che giorno è? sabato 29 febbraio ah ok è stata una settimana all'inizio proprio sì proprio all'inizio prima dei cambiamenti delle zone rosse non c'era nemmeno la restrizione non c'era alcuna zona nemmeno l'Odi era ancora zona rossa all'epoca però cosa consigliaresti agli italiani in questo momento di crisi? no di stare a casa ok anche lui usa l'hashtag io resto a casa sì bisogna stare a casa bisogna essere responsabili non tanto per non contrarre la malattia ma soprattutto per le persone che magari sono più deboli più anziani le persone non depresse che hanno già altre patologie bisogna bisogna salvaguardare queste persone anche noi la pensiamo così poi New York qui ci resta quindi venite fra qualche mese basta Irene non qualche mese il mese prossimo vi aspettiamo il mese prossimo estate grazie Giovanni grazie Iviana allora ho trovato un gruppo di Roma il testimone Claudio mi hanno detto siete arrivati sabato scorso? sì sabato e com'è la situazione all'arrivo? con chi avete volato? all'Italia all'aeroporto di Fiumicino abbiamo dei controlli della temperatura sì e tutto a posto abbiamo viaggiato bene siamo arrivati negli Stati Uniti a New York e ci hanno solo controllato i documenti siete arrivati al GFK? sì nessun tipo di controllo domande perché siete italiani? abbiamo compilato un questionario in Italia l'andata ok e credo che loro abbiano comunicato alle autorità americane quello che noi avevamo scritto nel suo questionario che erano domande su dove venivamo se avevamo problemi di salute o meno però qui non ci hanno fatto nessun tipo di controllo ok e quando tornate in Italia che adesso avete detto che siete un po' preoccupati? siamo un po' preoccupati perché in questo momento abbiamo saputo che anche tutta l'Italia diventa la zona rossa quindi quindi è confermato perché era notizia sì diciamo che ho saputo l'Italia che c'è stata una notizia straordinaria pochi minuti fa del presidente del Consiglio Conte dove dichiarava zona rossa per tutta l'Italia quindi non si può entrare né uscire quindi siamo un po' preoccupati perché rientro dobbiamo rientrare Zappa noi ci eravamo informati io e Irene e sappiamo che comunque fanno rientrare nonostante sia zona rossa spero che continua ad essere così la questione altrimenti sono seri problemi e poi starete dentro casa due settimane? ma tranquillamente ci possiamo stare a Tio dei peri noi ragazzi possono stare quindi non è un problema grazie prego in bocca al lupo siamo arrivati alla conclusione di questo video ma visto come ne pensate della politica internazionale in questo periodo hai capito cosa stanno dicendo dato che sono stata invitata da Magda e Giovanni Giovanni ve lo ricordate sicuro perché l'ho intervistato a Central Park chiedendo il percorso per come prendere il visto e quello da imprenditori ve lo lascio qui nell'info box nel frattempo vi faccio vedere dove sono yeah ciao sono in mezzo a due istruttrici di Zumba un estetista anche Magda l'ho intervistata vi ricordo che lei ha un suo negozio Bella Nova Beauty Lab anche di lei vi lascio il link qui nell'info box e Giovanni del negozio di occhiali sì quello chic dove vanno tutti i VIP Madison Avenue allora domanda finale visto che oggi l'ho chiesto in giro per New York loro sono arrivate da Bologna ricordatemi il giorno il 5 marzo 5 marzo sono arrivate il 5 marzo da Bologna però aspetta Bologna e Milano da Malpensa sì ok quindi hanno fatto Bologna Malpensa Malpensa JFK non hanno avuto nessun problema ad entrare confermate confermiamo ma abbiamo fatto una tappa da Amsterdam ahhh c'era il trucco ci hanno spostato non ci sono i diretti ci hanno spostato però visto che voi state per tornare in Italia cosa pensate di questa situazione seguirete le direttive seguirò le direttive per accedere al treno quindi hashtag ce la faremo hashtag io resto a casa dovete rimanere a casa tutti a casa tutti a casa tutti a casa prima però dobbiamo arrivare a casa a casa Bologna ci faranno arrivare ci faranno arrivare tutti a casa sì a chi ci stiamo rivolgendo al pubblico al pubblico resistete ce la faremo ma sì siamo così siamo super forti tranquilli tranquilli e vabbè voi lo sapete io sono con voi ci sono sempre per oggi è tutto da Chiari Lady Boss a New York scacciamo sto di coronavirus baraghe yeah